Buongiorno! 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 Presidente! Buongiorno! Come andiamo? Bene, grazie! Malagò, introducendo ieri, ha detto che lui la duecentesima medaglia la vuole prima che io me ne parla. Esatto! Siamo notte, ragazzi! Allora, non puoi guardare qualcuno qui! Nooo! Abbiamo il tiro con l'arco! Eccolo! Eccolo! La scherma! Dov'è la Rossella? La spalla, c'è la prima! Eh, Rossella sta a fare l'allenamento! Mi auguro che stia facendo l'allenamento! Sarebbe grave se lo stesso! Come va? Forma? Pronto? Grande! Eccolo! 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 Ecolo! Eccolo! Grazie a tutti. Grazie a tutti.